ben ragazzi sono marci e benvenuti in questo nuovo video della one piece ragazzi mi scudo subito perché il video sarà abbastanza corto e in secundice perché il video è stato interrotto per un crash appunto del server ed è per questo motivo che la one piece la porto poche volte a settimana e di solito in single player perché in single player soffre meno di crash comunque vi chiedo lo stesso di lasciare un like se comunque volete che la serie continui diciamo un pochino tiratamente anche se non si dice tiratamente comunque fatelo sapere con un like vi lascio all'intro bella marci burlone buongiorno a tutti ragazzi sono marci e benvenuti in questo nuovo video della one piece oggi sono in compagnia di the lion di ciò ma che schienno ho la mia schienno marci è vero è la tua schienno ok basta ragazzi mi avete chiesto in tantissimi di evitare di costruire visto che a parte che siete voi che mi dite costruirci marci è bellissimo fare case nell'acqua bellissime in caso lasciate un like intanto ma cosa sarebbe sto aborto qua puoi è la mia casa puoi cagare i pro della morte e sbabidubiduba 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 se vedete la game mod è perchè ragazzi praticamente avevo fatto dei casini con Dani mi ha ucciso e mi ha crashato tutto comunque Dani allora quest'oggi andremo alla ricerca di frutti facciamo 100 e 10 mila quindi muoviti a toglierti la roba mettiti in creativa tranquillamente sbabidubiduba si è tipizzato ah e mod 1 guardatelo come si mette la game mod oddio ma non è che non oddio ma io ci credo è entrato la terra che culo che culo no no io qua metto il punticino m waypoint new waypoint m m terra ok dobbiamo andare da di a prendere nelle barche la roba quindi ti devi muovere altamente perchè c'è un creeper in acqua? ma non ha senso c'è un creeper in acqua ooooh aaaaa perchè non muore? ma perchè non muore? oddio era lo smoker era non ci credo sono anch'io qua ciao oh il naranonomi si ho trovato un frutto oh no ho trovato un frutto seguimi dani seguimi piccolo plebeo ma perchè? mi devo togliere il frutto vero? ma io amo questo frutto ma dove sei? che bella c'è cazzo io non trovo giungla nella marcia sulla valle le trovo qua no 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 perchè mi teletrasporto sempre nello stesso punto? ho trovato una barca rossa però mi sa che quelle rosse non fanno una medita chip wow ok mi sa che la rossa non ha niente invece no c'è un altro naranonomi e ragazzi nel prossimo episodio penso che farò la sfida con martina della naranonomi challenge che tutti di voi sanno che cosa è per chi segue la cosa e si 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 sono contento perchè è tipo come faccio a tocchermi il frutto? devi bere il latte ah ok no no lo smoker no lo smoker no lo smoker no lo smoker no ok ora posso volare libero il cielo no 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 un piccolo spargo nooo si vabbè ma lagga è immortale perchè è immortale? non lo so ma io me ne vado no bisogna battere lo smoker eeeh wow ma lagga è uno smoker laggante quanto roba c'è qua? wow carne io ho bisogno della carne c'è un pesce volante marge dove? ahhh ma veramente ahhhh ma veramente ma veramente oddio ma mi sai che in quelle rosse non si trova oddio è nelle rosse che si trova la roba oddio aiuto aiuto danny danny deny come ti chiamano la gente Deny deny oggi non ci sono problemi haha dove sei marge Ho trovato un altro Oh Fottiti C'ho la spada di low anche se non ho il potere di low Che cazzo vuoi? Che cazzo gridi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Oh va che sconnetto tutto Connetti? L'aria che ci fa? Sono qui ho trovato una barca sotterranea Però non troverò un cazzo Non ci voglio neanche andare No andiamoci Ho trovato sette frecci E allora sei forte Guardate che io ho buttato via il frutto di low Se arriviamo a 700 Mi piace questo video Farò la challenge con Martina E chi vincerà più Non farò un cazzo Non puoi capire È una cosa trama Martina Non puoi capire Certe cose non puoi capirle Piccolo plebeo Non puoi dare il plebeo a me Sì plebeo Perché c'è una barca? Sei tu che devi inginocchiare No Dani Perché lagga così tanto il server? No 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 Non è che lagga Devi venire qua un attimo Sta venendo Non vedo niente Cosa cazzo? Oddio Aiuto Dai muori pirata Io sono la spada di low Perché ti trasporti da me Che erano tipo due cubetti avanti Ma perché ho mezzo Vai Che sono troppo forte Un'altra Non è una miglia Andiamo Ma basta Ma che è? Ma io qua Non vedo niente Qua c'è qualcosa Dani Ma è baggata la barca O sono io baggato? Ma dove? Sono baggato io Ma dove? Domani quando ti riguarderai il video Potrai capire che cosa mi sta succedendo Sicuramente Ma cosa che faccio? Vieni qua Vedi? Ho fatto bene a uccidere Ti plebeo Lo sai che ho trovato una pistola Marci? Vieni qua che te la regalo Vieni vieni Ti regalerò una pistola Oddio c'è un dungeon Oddio ma è bellissimo Andiamo nel dungeon Per il dungeon Io voglio il mio Ope Ope Frega un cazzo No no il dungeon lo faccio nel prossimo episodio Che prossimo episodio? Mi ho appena incominciato a registrare No adesso Mi hanno chiesto esplicitamente Di fare che cosa? Intanto mettiamo un punto qua magari Dungeon con Dani Dungeon con Dani No mi hanno chiesto Dani Di cercare di essere unicamente frutti In questo episodio Lo faremo Lo faremo Perché me l'avete chiesto Io sono bravo Vieni qua Dani piccolo Sì che te l'ha chiesto La tua coscienza No tutti gli iscritti Se guardi l'ultimo video Sono qua Tutti gli iscritti Un'altra Un'altra marche rossa Vieni qua Dani Tutto percato Perché sono le lavi divise a metà? Chi c'è passato qua? Vedi che le vedi anche te divise a metà Allora Ah ok E' proprio c'è anche caricato mare No una minchia Wow Non c'è niente Non c'è una sega Non c'è una sega C'è un cacchio Sega Sega Sei qua? Sei questo? No Cazzo sei? Sono davanti a te Perché mi lagga il server? Comunque guarda Posso mettere la fo Posso mettere la fodera? Guardami Posso mettere la fodera e togliala Che figata Mi hai aperto un mondo E se c'è la fodera Aspetta Aspetta E se c'è la fodera Ti faccio solo uno di danno Due Perché sei Scarso E' bellissimo sta cosa Come l'hai craftata sta spada? Eh si trova Non si crafta Oh ho trovato una spada inutile No basta Noronoronomi Basta Mi servono per la sfada con Martini Noronoronomi Non qua Basta Ma che poteri ha Noronoronomi Niente Che fa crescere il server Ah bello Ecco per l'appunto Mi è cresciato il server Ma si basta Sta laggando il server Non so se te ne sei accorti un pochino Ma proprio Ma proprio Ma proprio a merda sta andando il server Mamma mia E' imbarazzante sta cosa Mamma mia E' imbarazzante sta cosa Ma ci viene ancora dentro Wow Wow Si Wow Si ragazzi Si A me crasha il server Ho problemi Problemi Si 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 Cazzo Ok Ma stai facendo Cosa cazzo è quello Oh mio dio Ho paura No ho fatto mano Dani Ammazzami 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 Muoviti Muoviti Ammazzami Che gentile Pirata che muore affogato Che pene Che pena Dobbiamo trovare altre barche Fai time set zero No sta bene Bellissimo di notte Cos'ha quella barca qua Da niente Ma che ci sono anche i vestiti di Zoro Ma è bellissimo Wow Ma è casa mia Ma che cazzo fa Cosa stiamo combinando qua Slash tp Madame Archie Ah no c'è tp Zanna No ti prego non mi dire Ok ti siamo diti Fomeno male Ciao C'è un'altra barche 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 Guarda che qua Non so se siamo mai andati Non ho voglia Ma ci non posso giocare Come faccio a giocare Adesso concludo l'episodio Mi hai crashato il gioco C'è vedi tu Allora ragazzi Visto che tanti di voi Mi chiedevate Il perché Non facevo tanti video Sulla One Piece Perché non facevo video Con un altro Noronoronomi Allora questa è la spiegazione T Danny Lion of the Game Non è che ha leftato lui Ma è il server che crasha Quindi se Voglio fare degli episodi Purtroppo Devo farli in single player E in questo caso Ragazzi L'episodio sarà corto Anche se ho trovato Tipo troppi frutti E E niente Nel prossimo episodio Cercheremo con Danny Di andare nel dungeon Sperando che non laghi Che non Che sia Tutto strafigo E Lasciate lo stesso Un like Un commento E fateci sapere Che per voi va bene Lo stesso Che vengono L'episodio di corti Perché noi Te lasciamo Noi non possiamo Tenere un episodio Di 12 minuti 13 minuti Perché noi cresciamo Quindi Da Marci è tutto E da Ciao a tutti E da Danilaio è tutto E che la swag Sia con voi Ciao a tutti Amen Nei secoli Nei secoli Ciao a tutti